il silenzio della tua cucina non sarai mai solo ogni battito del tuo cuore troverà l'ingrediente giusto che darà un senso alla tua vita questo leggiamo in sapori di ordinaria eccellenza ricette elaborate da Anna Loi non il solito libro di cucina lo si capisce già dal titolo ordinario ed eccellente possono non essere in contrasto o divenire uno simoro superbo si può mettere in tavola il massimo del gusto e della qualità anche ogni giorno perché non è soltanto un ricettario seppur è un libro composto da 162 ricette con in più però un QR code dove ovviamente è facile anche per chi fosse le prime armi potersi cimentare con chi sta preparando la ricetta a realizzare un piatto piuttosto che un altro in realtà ogni ricetta ha un esecutore differente uno chef un appassionato chef differente quindi in questo caso noi promuoviamo gli ingredienti del territorio perché come avrete visto ogni titolo rivendica un prodotto piuttosto che un altro e quindi parla di un territorio valorizziamo il territorio e chi lo produce quel quel cibo chi lo prepara in realtà è da valorizzare anche questo per annalò i sapori di ordinaria eccellenza walter pellegrini editore Payone 38 38 38 14 40 Grazie a tutti.